Amici di Musga Maestro, arriviamo finalmente al protagonista, l'abbiamo visto all'inizio di questo pomeriggio, stava scaldando i motori, vero? Alessio, intanto complimenti perché hai avuto un parterre importante come la tua opera. Tu sei un esperto in comunicazione, voglio lasciare a te la parola. Siamo al Circo della Stampa, la motivazione e il perché di questo tuo progetto. Sono un esperto di comunicazione con una vecchia passione per la scrittura che è stata sempre coltivata nel personale, con poesie, con racconti che non ho mai pubblicato. E devo dire che sulla soglia dei 40 anni ho colto una folgorazione artistica in una chiesa in Lanzo Torinese e questa folgorazione è proseguita nel corso dei mesi con una scrittura che era una rimozione di cose che c'erano dentro da chissà quanti anni stratificate. Il romanzo è venuto fuori in modo fluido e di getto in nove mesi di scrittura e di ristesura. Poi c'è stato l'incontro fortunato con l'amico Marcello Gobbi, pittore chierese, che in un brainstorming appassionato ha prestato la sua opera, la sua arte, che io apprezzo moltissimo, ed è nato un quadro, un quadro vero, un acrilico su tela che abbiamo presentato in anteprima assoluta proprio qui al circolo della stampa di Torino e questo quadro è diventato la copertina di questo romanzo. Un quadro che chiaramente si è messo un po' al servizio del romanzo, quindi non parla direttamente della sua arte ma parla da voce, da un volto a questo romanzo, che è un romanzo che racconta, parte da una domanda forse banale e scontata ma che forse poche volte ci poniamo da torinesi. Per tutti coloro che come me credono intimamente che la Santa Sindone sia l'immagine del corpo di Cristo, la domanda, come dire, lo stupore, la meraviglia che ci si pone ogni mattina è come mai questa cosa è a Torino. Ecco, questo romanzo cerca di raccontarlo attraverso un protagonista che è un giornalista, un po' come anche lo sono io, Gabriele. Gabriele fa un'inchiesta e da questa inchiesta viene fuori un fil rouge, un collegamento che tiene insieme Torino, Costantinopoli, Gerusalemme, Mosca e anche tanti comuni della provincia di Torino come Chivasso, come Lanzo, come Chieri. È un romanzo avvincente. Io, come dire, sono la persona più sorpresa di averlo scritto perché, ripeto, non è il mio mestiere scrivere romanzi e un grande amore per la scrittura chiaramente ce l'ho da sempre, però questo è il mio primo romanzo, forse ne scrivo altri, non te lo so dire. Per il momento sono contento di poter portare in giro in provincia di Torino questo prodotto assieme al quadro di Marcello Gobbi a raccontare un pezzo della storia del Piemonte che affonda le radici nel Medioevo, nelle guerre crociate, nelle, come dire, in quelle famiglie che per secoli hanno difeso questo territorio dalla Francia, dalla Spagna e hanno creato le condizioni perché l'unità nazionale potesse compiersi. E quindi questo è anche un omaggio all'Unità d'Italia che si è appena conclusa col 17 marzo scorso. Alessio facciamo una piccolissima pausa, riprendiamo prima dei saluti, lasciamo la linea alla regia.